Grande l'apporto ed il supporto delle associazioni di volontariato che impiegano, mettono a disposizione il loro tempo, il loro impegno appunto nella raccolta differenziata, in questo salto di quota proprio a livello di forma mentis, ci siamo confrontati con i soggetti istituzionali, col presidente del CDA dell'AMIO, con l'assessore alle società partecipate, l'assessore comunale, con alcune associazioni che si danno da fare per la raccolta e quest'oggi è il turno di retake, un termine inglese è riprendere, riprendere che cosa? La bellezza, la civiltà? Noi siamo impegnati appunto a cercare di restituire la bellezza per la nostra Taranto, abbiamo sposato pienamente quando c'è stata l'occasione da parte della Chima Ambiente di poter dare una mano e noi poi attraverso la nostra responsabile nel nome di Alessandro Alaghezza siamo riusciti a inserirci in questo circuito e siamo in maniera costante ad aiutare, a spiegare, a informare ai cittadini il giusto conferimento dei rifiuti anche se, ripeto, ci vorrà come molto tempo, ci vuole perché la cultura qui non è tanto facilmente sviluppata, quindi però ci stiamo mettendo del nostro e l'impegno è da parte di tutti noi il massimo.